Varese in the World arriva a Saronno. Arriva a Saronno, è la terza tappa di una nostra, crediamo, importante iniziativa a cui vogliamo mettere a disposizione di tutti coloro che hanno un interesse a verificare, a indagare come le imprese nel tempo hanno rappresentato i propri prodotti e la propria esistenza con tratti cromatici, con tratti grafici di particolare originalità e di particolare attualità anche se si riferiscono agli anni 60. È un modo di dimostrare come le imprese sono sempre state sul territorio e continuano ad esserci. Non vuole essere una retrospettiva che indaga il passato, ma semplicemente la possibilità di dimostrare come nel tempo le imprese hanno saputo adeguarsi e adattare i loro modi di comunicare. Sono stati antessegnani questi nostri imprenditori di quelli che oggi si chiamerebbero brand, ma non hanno solitamente mancato di accogliere i contenuti dei loro prodotti e le loro capacità imprenditori. Grazie. Grazie.